Beh, allora, questo sabato giocheremo contro Properti Lodi, che sono sì vero ultime in classifica, però l'andata abbiamo sofferto, nonostante siano usciti a vincere 3-2, vediamo se a ritorno siamo progrediti rispetto a loro e soprattutto speriamo di dare continuità alla vittoria di sabato scorso e quindi vedere se il morale delle ragazze si è alzato un po', senza mai scordarci che comunque il nostro obiettivo sono i campionati giovanili che devo dire finora stanno andando molto bene, abbiamo passato gli ottavi di finale per quanto riguarda l'Under 14 e l'Under 18 a livello provinciale, affronteremo nel prossimo weekend con la 14 Torbole e con la 18 Il Donato e nel frattempo attendiamo chi sarà il nostro avversario e con la 16 Torbole e con la 18 Torbole e con la 18 Torbole e con la 16 Torbole.